Il clima da resa dei conti nel Partito Democratico Nocerino, stasera previsto un vertice dei quattro consiglieri comunali Giordano, Stile, De Maio e Pepe per adottare decisioni importanti che potrebbero portare innanzitutto alla richiesta di dimissioni del segretario cittadino Francesco Scarfò. A lui si contesta soprattutto l'appiattimento sulle posizioni del sindaco Torquato, nei confronti del quale alcuni consiglieri hanno mostrato segnali di insofferenza per il passato rispetto alla mancata spinta nell'azione amministrativa. Ma non sarebbe solo questo, pare che ai consiglieri democratici non sia andato giù la modalità di proposizione della candidatura di Enzo Petrosino alle prossime elezioni regionali. Decisioni calate da Salerno, dicono, e dalle quali il segretario cittadino e il suo gruppo di riferimento con l'assessore Fortino si sarebbero allineati. Scarfò potrebbe presentarsi dimissionario al direttivo cittadino dunque fissato per martedì prossimo e rimettere l'incarico se stasera i quattro consiglieri comunali dovessero sfiduciarlo. Le ipotesi al vaio sarebbero diverse e non si esclude che i quattro rappresentanti dell'assise cittadino o parte di essi possano pensare di lasciare il partito e costituire un nuovo gruppo consigliare che con molta probabilità passerebbe all'opposizione. Al segretario di conseguenza, al sindaco Torquato, si contesterebbe la mancata collegialità nelle scelte politiche. In primis pare che chiederanno con un documento che Scarfò non possa entrare a far parte dell'esecutivo, che gli assessori invece vadano scelti dai consiglieri comunali del PD ed infine che possano essere scelti dalla rosa dei consiglieri. Tutti i punti che troverebbero il niet del sindaco che invece continuerebbe ad avvocare a sé le nomine assessoriali in un turnover annunciato. Altro punto di scontro, un fatidico comunicato stampa redatto sempre dai quattro consiglieri nel quale si difendeva l'assessore Gianfranco Trotta ma non gradito ai vertici di Palazzo di Città, tanto da far intervenire secondo indiscrezioni il segretario Piedino per bloccarlo. Ed è su questo che sarebbero volate parole grosse tra il segretario Scarfò e Paolo De Maio in rotta di collisione con il primo cittadino. Sa di fatto che l'area di crisi interna potrebbe portare il Piedino Cerino a perdere pezzi importanti.